musica 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 ma come ci arrivo però lassù scusa ah con un mega iper salto proviamo infatti grandioso allora dobbiamo andare in cima alla torre dov'è la torre però? ah ma è questa qua oddio ma è difficilissimo sta torre che kaiser di casino è sta roba lo sai aspetta che mi potenzio anch'io cosa hai potenziato tu? lo sprint mentre il salto di poteri il super sprint o il super salto? si super salto scusami ah si perchè l'altro è il solo danno ridotto ma non è che serve tantissimo cosa hai messo? riflessi ninja? altezza? no quando scatto in aria scatto in aria ah premendo maiuschio premendo maiuschio puoi saltare a mezz'aria questo è difficile ah wow ah dobbiamo arrivare qua sopra tu hai già iniziato a saltare? si ci stavo provando ah ma è altissima come kaiser ci arrivi lassù? aspetta aspetta secondo me dobbiamo partire da questa piattaforma qua sai? dove? da questa qua più piccola che io ho mancato come un cane ok ora che siamo qua no no l'ho mancata per un pelo cribbio vabbè faccio così no l'ho mancata di un sacco questo giro no 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 è un casino sta roba no se eh si no c'è qualcosa che salto allora mi metto qua faccio il super salto no kaiser devo usare lo sprint in avanti subito e forse ce la facevo o forse hai provato con la rincorsa eh no ma non fai un salto abbastanza caricato se fai la rincorsa esatto no l'ho mancata mi sono buttato tutto dall'altra parte ah ma no guarda che c'è una piattaforma più piccola non l'avevo vista io la piattaforma quella la è tipo un parkour ma io mi stavo già buttando sulla torre principale esatto ah questa è facile no l'ho sbagliato e poi di qua che arriva il difficile ooooo essa ah no ci sono arrivato ma era facile io stavo andando dalla parte sbagliata ah oddio no non è facile cioè questo è un checkpoint ho preso un cluster dato a caso e si l'ho preso io salendo eh anche io ne ho preso uno perchè mi ha fatto wuhuu però no non posso saltare di qua devo andare forse di la ma allora carica sto salto ok ma dove devo andare? là credo ce la faccio ad arrivare là oddio ragazzi è bellissimo sto parkour qua con i super power con i super power ok ti ho preso un altro cluster dati un altro ancora un altro ancora un altro ancora anche io sono quasi in cima alla torre qua anche io ho fatto un altro punto di salvataggio oddio qua ci arrivo come faccio ad arrivare là sopra altro cluster dati altro cluster dati altro cluster dati ma stiamo arrivando quasi alla fine qua o è ancora molto lunga tu dove sei? non lo so sto cercando di salire anch'io oddio allora qua devo fare di nuovo un super salto con un salto su parete ok altro cluster dati quanto è ancora alta sta torre? oddio è altissima ancora marco lo so e io nooo son caduto son caduto ciao Yeah, Marco sono sulla cima Adesso mi teletrasporto da te Ti aspetto? Sì Arrivo Dovrebbe teletrasportare Ma si è caduto? Riprendo dal... Ecco, materializzate... Eccolo qua Non mi andava di fare... Dove sei? Qua, sto arrivando Ah, ecco Salta su Ople là Dove sei andato? Ma sei gay? Ma che Kaiser? Che c'entra? Sei volato giù di nuovo Lolli no Io ti aspetto qua No, però è stato bellissimo Sto... Sto... Sto livello Non capisco che senso ha la tua Sei gay Così a casa No, sono... Sono... Sono un pirla e sono caduto Marco, qua questo credo che dovremmo spezzarlo Tagliarlo Velocizzarlo Perché Sono tipo 28 minuti Ma è troppo epico sto gioco ragazzi Sì Sì, ma a me non piace il parkour Ma questo è facile Abbiamo anche sbloccato quella roba... Ah, io intanto mi guardo le abilità mentre tu sali I poteri Morri Scarica Vediamo se c'è qualche potenziamento carino di scarica No, vabbè Questo non mi interessa Elementi? Eh, ma non posso Devo essere di livello più alto Super sprint Vediamo se c'è qualcosa di interessante Il danno ridotto, ma non mi interessa granché Che super salto, cos'è che c'è? Raggiungono maggiore altezza Se l'ho fatta salire Oh sì Io farei planata e altezza Secondo me sono i più comodi Che dici? Eccolo Planata e altezza io mi sblocco Che dici? Ce l'ho fatta anch'io arrivare in cima Che casino Allora faccio Questo, planata e altezza Allora Poteri Perfetto Secondo me sono i più meglio ora come ora Uh, posso fare delle nuove roba Anche come soldi Sì Ma perché c'è salito di livello? Salto Finito la cosa? Mischia super forza Due pistole Bonus Scusate che c'è abilità Io ho fatto Io ho fatto super Super salto Super salto L'ho potenziato Anche l'ho più potenziato Io mi farei No ma ho pochi soldi Li tengo per ora E adesso io voglio usare Super salto Me ne vado Mi hai buttato giù per terra Con il tuo super salto Sto planando come uno scogliattolo Ah che tu hai fatto la planata Sì Aumentare l'effetto della scarica Ci sono dei nuovi potenziali per il super salto Che sono quali? Ah altezza 2 Ma non hanno abbastanza punti Che figata Allora io prima voglio fare un salto in alto Altissimo Con la nuova cosa migliorata Intanto pensa a quello che dobbiamo fare Bisogna andare là C'è scritto 2000 passametri All'inizio della truffa Marco secondo me ci conviene salutare qua Sai? È venuto un video lunghissimo Salutiamo un secondo Finisco di prendere cluster data E ci prendiamo l'ultima abilità Ma tanto ci sono un sacco di queste torri Sai? Sì Se non hai visto C'era scritto 1 su 15 15 torri ci sono Eh ma perché sto potenziando le abilità Mentre tu l'hai finita? Eh te lo ripeto io Ti ho preso un cluster di dati Anch'io Ah ma c'era un sacco qua Potenziali Poteri Super sprint Ma questo è un cluster di data Salutiamo Marco conviene Non finiamo più Esatto e Facciamo così ragazzi Noi magari farmiamo un po' di torri nel frattempo Un po' di cluster di dati Senza fare delle nuove missioni però Che dici Marco? Io direi di sì Quindi da Marco88 Dalla signora tettona qua E da Da Mazzetess Da questo che passa per strada Che adesso gli sparo È tutto Ma li ho sparato davvero Ciao a tutti Saluta Mi sto sparando oddio Ciao a tutti Ciao a tutti